Le indagini condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Lentini hanno riguardato gli esercizi commerciali di Lentini e Francofonte. Durante le ispezioni sono stati sequestrati più di 53.000 giocattoli con decorazioni e accessori per Halloween per un valore di decine di migliaia di euro. I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal codice del consumo. Le confezioni in particolare non presentavano le informazioni obbligatorie in lingua italiana né le dovute avvertenze sui rischi di soffocamento legati alle componenti di piccole dimensioni. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controlli che il corpo sta portando avanti in tutta la provincia retusea con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire la legalità nel mercato. In vista di Halloween infatti aumenta la richiesta di prodotti legati alla particolare festività e con essa anche i rischi legati all'acquisto di merce pericolosa. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio del sud-est di Sicilia per l'erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. L'azione della Guardia di Finanza non si limita alla repressione del commercio abusivo ma mira anche a sensibilizzare i cittadini sui pericoli che possono derivare dall'acquisto di prodotti non conformi, Contrastare la diffusione di questi articoli significa non solo proteggere la salute pubblica ma anche garantire un mercato competitivo ed equo per tutti gli operatori economici onesti. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni con un'attenzione particolare a tutte quelle categorie merceologiche che in vista della festività di origine anglosassone possono costituire un rischio per la sicurezza dei consumatori, soprattutto le più piccoli, i quali hanno il diritto di vivere il famoso rito del dolcetto scherzetto in assoluta tranquillità. La Guardia di Finanza ha anche il compito di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti in vendita sul territorio e nelle piattaforme online, a tutela di tutti i cittadini, in particolare dei più piccoli, che hanno il diritto di festeggiare qualsiasi ricorrenza, in questo caso la festa di Halloween, in assoluta tranquillità e senza rischi per la salute.